biella via 20 settembre numero 7 7 un numero magico siamo praticamente nel centro della città nella palazzina che avete visto alle mie spalle che è stata recentemente restaurata completamente abbiamo un attico di 240 metri quadrati andiamo a vederlo all'interno siamo nel cuore di biella a due passi alla nostra destra abbiamo via italia quindi zona centralissima di biella questo edificio ex banca d'italia è stato completamente ristrutturato pochi anni fa e al cui interno è stato installato anche l'ascensore che serve i vari piani come vedete di fronte non abbiamo nessun'altra struttura quindi questa proprietà gode di piena luce tutto il giorno mentre alle nostre spalle proprio pochi passi più in là abbiamo via italia sinonimo che siamo proprio nel cuore di questa bella città centro città l'alloggio è 250 metri quadrati commerciali su questo piano d'arrivo abbiamo l'ingresso il salone un bagno a servizio della zona giorno una cucina che 4 metri per 4 due balconi e un terrazzino come vedete l'immobile è stato rifatto completamente per cui abbiamo tutti i serramenti perimetrali con vetrate a camera pavimenti impianti è praticamente nuovo ancora in rodaggio 250 metri quadrati commerciali impianto di riscaldamento autonomo su caldaia centralizzata le porte interna non tutte la chiusura calamita e guardate che bella cosa questa porta con l'apertura a compasso ingresso principale giustamente protetto da porta corazzata la zona giorno l'abbiamo vista ora seguitemi che andiamo a vedere la zona notte siamo nella zona notte la zona notte divisa sostanzialmente in due ale da questa parte di qui abbiamo due camera da letto che potrebbero essere due camere matrimoniali con il proprio bagno venite che vi facciamo vedere gli scatti perché poi l'altra parte della zona notte che la zona notte padernale ce l'abbiamo nell'altra area l'alloggio che è suddiviso sui due livelli è sposto al sole sui quattro lati ma non è tutto perché alla fine vedremo che gode anche di una splendida torre da una di queste camere matrimoniali possiamo vedere la struttura in lamellare del tetto come dicevamo il sistema di riscaldamento è su caldaia centralizzata ma con un termostato che permette di mantenere la temperatura più gradita su ogni piano siamo nella zona matrimoniale padronale che è una figata perché abbiamo questo spazio qua ad arrivo il suo bagno quindi l'alloggio è dotato di tre bagni abbiamo un bagno nella zona giorno un bagno che serve le altre due camere da letto matrimoniali un bagno che serve soltanto la zona matrimoniale padronale poi qui abbiamo la camera da letto matrimoniale con il suo guardaroba all'interno e la figata di questa zona che tramite questa scala abbiamo la torretta da cui si vede biella 360 gradi siamo nella torretta ultimo vano da rimasto da mostrarvi guardate di che splendida vista 360 gradi come dicevamo all'inizio la ristrutturazione è recente quindi anche il tetto è stato rifatto da zero siamo appunto nell'ultimo vano di questo splendido attico che ricapitolando contiene di ingresso una grande zona giorno con la sua cucina e il primo bagno di servizio alla zona giorno salendo sul piano successivo abbiamo trovato tre camere da letto di cui la matrimoniale con la propria cabina armada interna altri due bagni e questa splendida torre con una vista straordinaria a 360 gradi cosa rimane da vedere la cantina e l'autorimessa io mi incammino voi godetevi ancora un attimo questo splendido panorama discesa che vale autorimesse notare bene piastra radiante con bulbo termico quindi qua problemi di neve e gelo non ne avremo mai ampia area di manovra e lo spazio che vedete alla mia destra è l'autorimessa di proprietà che può contenere tranquillamente due autovetture più lateralmente troveremo ancora uno spazio a deposito biellese territorio straordinario allora adesso tu che abiti a milano che abiti a torino che abiti in quelle periferie imperativo categorico assoluto vedi i numeri che passano qua sotto chiamaci ti portiamo a vedere questa proprietà ripetiamo 250 metri quadrati un attico nel cuore di biella con due autorimesse termo autonomo lavori da fare zero devi venire a vivere aspetta che guarda che non mi tirano sotto nel biellese a quanto vendiamo questa proprietà fantastica per soli 456 mila euro lo capisci che milano è bella ma la devi abbandonare biellese territorio straordinario noi di abita sempre in movimento